Ma quello lì non è il... che pezzo... comunque... Bernardo, hai letto che cosa hanno scritto alla gazzetta su Alcatrazia, che è un genio, un fenomeno... e lui sai cosa ha detto? Sai cosa ha detto? Ha detto che quando giocavo alla playstation sceglievo sempre la juve per le finali E magari l'ha vinta qualche finale sto per alla playstation L'ha vinta qualche finale alla playstation sto per Magari ne ha vinta qualcuno al finale alla playstation Forse si, forse si, madonna Ma roba, guarda come lo può Eh, mi immagino E come vi dà I loro calciatori li... Ma ti piace sto film? Ma guarda, solo sparano Sì, sto capendo Comunque stasera godo, eh A Fiorentina Mamma mia, che goduria, merda Ah, io godo Che goduria Solo con l'Inter giocano ste merda Sì, sì Solo con l'Inter fanno le partite le merda Ma falculo, va Solo con l'Inter Aspetta adesso Comunque, dai, Stan Hai capito? Che quando giocava Sì Forse l'ha vinta qualche... Ah, 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 ah Vai a giaccare la presenza Il nuovo Vidal Sì Il nuovo Vidal Che forte di Vidal un grande Un grande Eh Cosa sta facendo adesso? Adesso lo spara quello lì No Dai, dai, guardiamo il film Dai, sì Dai Un tipo strano Lo sai